Salve, sono Francesco Iadaresta e vi racconterò oggi la storia politica di un politico, Di Maio Luigi, questo signore qua. Vi racconterò la storia di Di Maio Luigi. Per parlare di Di Maio Luigi dobbiamo parlare della Fiat, perché la Fiat è nata nel 1938, l'ha fondata mio nonno materno, un ingegnere tedesco, che ha cambiato in Francesco Morgillo. Cambiò in Francesco Morgillo, fece le macchine, nel 1986 l'Alfa Romeo contattò mio nonno e gli chiese se acquisiva l'Alfa Romeo, perché l'Alfa Romeo era in crisi, malgrado le macchine che aveva fatto lo stesso mio nonno, quindi l'Alfa Sud, le macchine dell'Alfa Romeo. Nonno mi contattò e io dissi nonno compriamoci l'Alfa Romeo, siccome ti hanno trattato bene questi dell'Alfa Romeo, la compriamo pure a un prezzo buono, un prezzo molto vantaggioso. Vi comprai l'Alfa Romeo e contattarono le persone di Pomigliano, contattarono i miei nonni e mia mamma per fare dei figli. E nacque un figlio che si chiamava Luigi, quindi un mio figlio, che non è Luigi Di Maio, solo Luigi, un altro cognome. Venne nel 1997 e questa famiglia Agnere, una famiglia di pedofili, insieme a delle famiglie che hanno fatto l'inseminazione artificiale, mi fecero una truffa e la truffa consisteva di farmi andare con un uomo sessuale perché per non farmi essere santo, perché io siccome sono il nipote di Giovanni Paolo II e ho fatto tanti brevetti, disse Giovanni Paolo II ti faccio santo quando morirai, questo nel 2073, cioè quando avrò cent'anni. Dici campa tutto quello che vuoi campare, quando morirai fra tanti anni ti farò santo. Successe questo, successe questo e arrivò la settimana del 23 maggio del 1997 e il santo padre Giovanni Paolo II mi chiamò e mi fece andare in Vaticano per nascondermi, io non lo sapevo, però sapeva tutto Giovanni Paolo II perché i miei nonni nell'85, cioè 12 anni prima, mi avvisarono Giovanni Paolo II di questa truffa perché sentivano gli agnelli, i pedofili, sentivano i pedofili e gli agnelli, quindi sapevamo tutto. Successe questo e mandammo un figlio dell'avvocato Iadaresta, cioè un mio parente, perché l'avvocato Iadaresta ha donato il seme. Tra i figli conosciuti dell'avvocato Iadaresta, alcuni, quelli più conosciuti, Simonetta Cesaroni che è morta in circostanze misteriose a Roma, uccisa da un pedofilo di Santa Maria Vico e Valentino Rossi. Quindi un figlio dell'avvocato Iadaresta che io assomigliavo tantissimo a lui si sostituì a me e fece questa truffa. Siccome le famiglie che hanno fatto l'inseminazione artificiale si associarono a questi agnelli, avendo io fatto il testamento che lascio solo ai figli che mi vogliono bene, quindi ho saputo i figli che mi vogliono bene e i figli che non mi vogliono bene per dargli l'eredità. Arrivò il 1997 nel maggio e cercarono, cioè la mamma di Luigi, questo mio figlio, diede una caramella avvelenata con l'uranio a Luigi, questo bambino. Gli venne la leucemia e quindi si curò. Mia mamma che stava in pensiero lo contattava spesso e quindi parlavano di tutte le mie invenzioni, Luigi mi voleva tantissimo bene, questo mio figlio Luigi di Pomigliano. Arrivò un giorno e mio figlio Luigi stava insieme a Luigi Di Maio, c'era pure il padre di Luigi Di Maio, e mio figlio disse guarda mio padre ha inventato questo, ha inventato quello, ha disegnato la macchina, ha fatto questo, disse Luigi Di Maio, lo prese per le spalle e gli venne una sputata proprio eccezionale, vicino al padre, quindi il padre non gli disse niente. Disse mio figlio guarda che se vuole mio padre ti fa diventare onorevole e ti fa diventare ai vertici del Parlamento, non solo onorevole, ti fa diventare una persona importantissima. Mio figlio Luigi morì e io feci investire dei soldi per inventare dei farmaci, perché inventai dei farmaci che mimetizzano l'asparagina, sarebbe il principio attivo degli asparagi che io ho inventato per la leucemia. Invece di utilizzare l'asparagina abbiamo inventato dei farmaci sintetici per la leucemia che oggi salvano migliaia e migliaia di persone. Mio figlio comunque morì quando fu il momento di crescere il Movimento 5 Stelle, dietro appunto il benestare di Giovanni Paolo II, quando fu il momento di far salire il Movimento 5 Stelle, di farlo salire alla ribalta, mi sono ricordato tutto e la mia famiglia ha contattato Grillo e gli ha detto guarda devi chiamare Luigi Di Maio perché gli ha detto tutta la storia e deve essere onorevole e deve stare ai vertici della camera. Ti aiuteranno le aziende televisive, cioè di mia nonna materna, ingegnere elettronico Antonietta Miele, che appunto ha inventato la televisione, le aziende televisive italiane sono tutte sue, questa signora qua, ingegnere Miele, Antonietta Miele, e gliele hanno rubate, cioè soprattutto la Rai e la Mediaset, e la Rai gliel'ha rubata allo Stato, la Mediaset Berlusconi Luigi, la Rai non è stata pagata, quindi ritornerà di nuovo alla mia famiglia, Berlusconi Silvio ha collocato in borsa le azioni della Mediaset, non lo poteva fare, quindi ritornerà i soldi indietro. E dopo c'è la 7 che pure è stata rubata, sempre di mia nonna, della Telecom, e Sky che più o meno se l'è saputa vedere, quindi è più o meno così. Quindi vi ho detto un po' la storia di Luigi Di Maio, e adesso non lo raccomando più, perché non ho più interesse a raccomandarlo, dopo quello che è successo. Non è imputabile, perché all'età di 10 anni, quando è successo il fatto, 10-11 anni, non era imputabile, però è un fatto gravissimo anche perché la famiglia non lo ha redarguito, non lo ha picchiato il padre a suo tempo. Come testimoni ci sono gli amici di infanzia di Luigi, il mio figlio, che appunto parlarono con mia mamma e dissero, effettivamente Luigi ha detto la verità, cioè lo hanno sputato addosso. Vi ringrazio, vi saluto, Francesco Iadaresta, nato a Praia Mare il 19 luglio 73. Arrivederci e grazie. 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 Grazie.